Quindi ad oggi in Parlamento ci troviamo un nuovo gruppo politico che in realtà è vecchissimo, che fa finta di stare all'opposizione, fa finta di contrastare questo governo, ma in realtà non è altro che una scusa per continuare a portare avanti il governo eletta così com'è. Diciamo che questo partito che si è scisso in due è diventato il nuovo centrodestra guidato dall'astronascente della politica Fabrizio Cicchitto e l'altro è Forza Italia che è guidato dal gigante della politica Renato Brunetta, questo giusto per farlo capire anche a chi ci sta seguendo. Bene ragazzi!